perché avete scelto di essere a questo evento la nostra scelta è ricaduta principalmente per via del fatto che siamo distributori italiani del brand vivotech un brand che effettivamente sta mostrando un forte interesse per il mondo della videosorveglianza di rete su ip in particolare da particolare peso al supporto quindi per qualsiasi tipo di richiesta il gruppo vivotech è un gruppo che comunque offre sempre un supporto molto reattivo molto tempestivo e quindi ci sentiamo di dire che è un valore aggiunto molto importante questo quello che quello che offre appunto vivotech perché in un mondo particolare come quello dell'informatica in cui è facile cadere in problematiche avere qualcuno che ti copre le spalle nei momenti del bisogno può essere sempre una buona cosa perché aver scelto diciamo di essere partner di milestone prima di tutto perché milestone è leader del settore quindi comunque sia essersi diciamo accaparrati la partnership di milestone ci dà la possibilità di estendere il nostro mercato e di offrire un prodotto che sicuramente ha qualcosa che gli altri non hanno in più ci permette appunto anche a noi di poter espandere la nostra offerta a partire da bisogni di tipo domestico e piccoli uffici fino a bisogni più professionali a richieste a progetti di ambito anche nazionale ecco l'ambito della videosorveglianza contempla tantissimi aspetti se insomma lei dovesse descrivere il vostro prodotto e farlo emergere rispetto agli altri che cosa direbbe ma i prodotti vivotech che noi distribuiamo sono prodotti che hanno dalla loro un rapporto qualità prezzo che è veramente difficile trovare in altri produttori quindi i prodotti vivotech che ci danno la possibilità di poter portare la videosorveglianza di rete anche a coloro che non hanno la possibilità da un punto di vista finanziario di poter permettersi un investimento più grande più forte che purtroppo altri produttori richiedono ovviamente a discapito di una qualità migliore però comunque sia vivotech che offre sicuramente un rapporto qualità prezzo senza pari rispetto ad altri produttori grazie